Abbiamo avuto qualche battito dove abbiamo preso troppi gol interiore e queste battite che sulla bilancia un po' ci porta giù, perché se poi togli queste due o tre battite adesso non è che abbiamo preso tanti gol. In questo momento a quattro perché è tanto tempo che giochiamo a quattro, però una cosa se ci lavori pure a tre mi troverò bene. Sarà una partita come gli altri fuori casa che ovunque che vai sarà dura, poi sarà contro una squadra che si trova un po' in difficoltà, però sulla cata hanno una squadra molto forte e sulla cata dovevano pur lottare per qualcosa di importante. Poi si trovano in difficoltà, però comunque sarà molto difficile, hanno perso l'ultima partita in casa, quindi sicuramente vogliono fare meglio questa partita. Qua c'è un gruppo forte, però secondo me pure quest'anno abbiamo, ora devo vedere come si dice in italiano, una squadra larga. Pure quelli che adesso magari giocano meno, però sono molto forti e magari pure quello che ci aiuta a quelli che giocano a fare meglio, no? Perché secondo me quest'anno abbiamo una panchina, pur perché vanno in tribuno.